Insieme per un'impronta solidale a sostegno delle donne vittime di violenza, Inner Wheel e Chico di Grano di Serra di Falco, è l'artista nisteno Mauro Fornasero, presenti anche loro tra gli stand messi a disposizione dal Comune e allestiti in corso Vittorio Emanuele per la sesta tappa del Giro d'Italia. Stand dove sarà possibile scegliere una delle otto calamite ricordo della città a sostegno delle donne vittime di violenza. Un'iniziativa in linea con il tema lanciato dal Presidente internazionale dell'Inner Wheel, Capila Gupata, Live Lasting Legacy, ovvero lascia un'eredità duratura. Riproduzioni dei quadri del pittore Fornasero raffiguranti scorce e simboli della città, tra le calamite anche una dedicata alla tappanissena del Giro d'Italia. L'idea è nata appunto dal voler lasciare un'impronta solidale alla città. Il nostro è un club service che si occupa appunto di servizio al territorio di tipo sia umanitario che culturale. L'idea della calamite è nata appunto per coniugare sia l'aspetto sociale, quindi il sostegno alle donne vittime di violenza, sia l'aspetto culturale attraverso la diffusione turistica e culturale dei luoghi importanti e dei monumenti storici di Caltanissetta. Abbiamo coinvolto il pittore nisseno Mauro Fornasero, che ha dipinto nelle sue opere, nelle sue tele, scorci di Caltanissetta con i monumenti più importanti. E quindi ci è sembrato il modo più delicato di presentare Caltanissetta al mondo, per chi vuole conservarne un ricordo. Inoltre il centro antiviolenza Galatea ci ha indicato appunto la struttura a cui rivolgere la nostra attenzione, il chicco di grano, che ospita appunto donne e vittime di violenza, che hanno assemblato le calamite, cioè noi abbiamo fornito il materiale, le tele e tutto il resto del materiale, loro lo hanno assemblato per realizzare le calamite ricordo. Un'iniziativa sposata con entusiasmo dagli ospiti della struttura, il chicco di grano. Hanno collaborato anche i ragazzi, i figli, quegli adolescenti. Sono stati molto presi da questa iniziativa, soprattutto grati all'Innerville, come lo siamo noi, per averci dato questa possibilità di aver creato per la nostra città e comunque averci dato modo di lavorare per favorire l'integrazione di queste donne nel circuito sociale anche nella città. Attraverso appunto la realizzazione di queste calamite e l'utilizzo della manualità anche come scopo terapeutico di socializzazione e di crescita personale. L'Innerville ci permette tramite questa iniziativa di svolgere un'attività ancora non ben definita perché speriamo nella città di Caltainissetta e nella sua voglia di aiutarci, nella possibilità di fare un'attività ricreativa con tutte le nostre donne, i nostri bambini e i nostri ragazzi.